L'evento che faremo venerdì 17 alle 16.30 in piazza Ettore Troilo, che è la piazza che sta di fronte al tribunale di Pescara e rientra in questo filone che abbiamo avviato il 23 luglio con quale città, cioè ragionare le città come grande organismo da cui ripartire e l'incontro di venerdì è dedicato proprio al tema dei grandi eventi, cioè le grandi manifestazioni, le grandi iniziative che fanno conoscere un ingrandimento, un ingigantimento della città sia per le funzioni che svolge, sia per le persone che vengono, sia per la qualificazione delle sue funzioni, i grandi eventi internazionali ma anche poi quelli nazionali, che sono poi un fatto specifico e peculiare della città, che è il motivo per cui la città in quel giorno si fa mondo o si fa nazione. Certo questa che è una grande opportunità per una città, basti solo pensare a cosa è accaduto a Torino dopo le Olimpiadi del 2006, è anche un momento di rischio, un momento di sforzo per la città, è un momento in cui emergono criticità per il numero delle persone che arrivano, per il numero dei servizi che vanno erogati, per i rischi connessi sia in questo momento alle questioni epidemiologiche, sia ai rischi di ordine pubblico, di sicurezza, della qualità della vita dei cittadini che sono nelle città. E questo quindi è un tema su cui la comunità scientifica internazionale si confronta da tempo, ma è bene che anche qui si organizzi un confronto, sia mettendo in campo le intelligenze dell'Accademia, gli intellettuali, ma anche confrontandoci con i decisori pubblici, con gli imprenditori, con coloro che hanno organizzato manifestazioni di questo genere, proprio per sostanziare anche su questo aspetto uno dei capitoli di quella carta delle città di Pescara, con cui vogliamo dire come deve essere la città nuova. E quindi sarà un grande pomeriggio di lavoro e siamo convinti che produrrà dei grandi risultati.